Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una torta a forma di cuore per San Valentino. Iniziamo la preparazione per la pasta frolla. Usiamo 500 grammi di farina 00 già citaggiata. Usiamo 200 grammi di zucchero a velo. Versiamo il zucchero. Mettiamo 4 grammi di levito per i dolci. Mettiamo un pizzico di sale. Mescoliamo tutto insieme e formiamo una posetta. Usiamo 3 torli di uovo e un uovo intero. Aggiungiamo 200 grammi di burro morbido. Grattugiamo un po' di scorza di arancio. Mescoliamo tutto insieme. E adesso lavoriamo con le mani. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ecco qua! Ho finito di impastare. Adesso mettiamo la pellicola sopra e lo mettiamo in frigorifero per un'ora. prepariamo la crema. Mettiamo in una pentola a scaldare 120 ml di pana fresca. Mettiamo anche 20 grammi di burro. Mettiamo in un'ora di un'ora di oliva. Ecco qua! Burro è sciolto. La panna è bella calda. Lo spostiamo in un'ora di 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 un'ora. A questo punto aggiungiamo 180 grammi di gocce di cioccolato bianco. Mescoliamo tutto finché si sciogli il cioccolato e adesso aggiungiamo 80 grammi di confettura di fragole e mescoliamo. Adesso aggiungiamo un po' di colorante alimentare rosa. Adesso lo mettiamo in una ciotola e lo lasciamo rapetare. Dividiamo l'impasto a metà. Mettiamo la carta sopra e stendiamo il posto. E adesso diamo la formata al cuore all'impasto. Mettiamo la carta sopra. 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 Con l'impasto rimasto facciamo dei biscotti per la decorazione. Mettiamo la carta sopra. 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 Trascorso due ore adesso lo mettiamo in una ciotola e poi lo lavoriamo con il mixer. In una ciotola separata montiamo 200 g di panna fresca e 100 g di mascarpone. E adesso uniamo la panna alla crema. Uniamo la panna montata al composto. Uniamo la panna montata al composto. E adesso decoriamo la torta. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.